Domenica 24 maggio 2020, bello, guardo il cielo, che bello, dopo il temporale di ieri sera, sono le ore 7 della mattina, oggi ho un programma veramente eccessivo, se tutto va bene, andrà bene, spero che i pullman o i treni non siano troppi pieni, comunque vado, colico Chiavenna, madesimo, ho cascate di piure, cascate di acqua fraggia, stupende in quella zona lì, però devo vedere se il pullman a Chiavenna non è proprio pieno di gente che va a fare le gitte, altrimenti tutto ciò lo devo rimandare e aspetto un'altra volta, scenderò di nuovo ad Abbadia Lariana o a Fiummelatte, vediamo il programma, mi piacerebbe andare anche a Novate Mezzola, ma i problemi sono eccessivi in questo periodo, per il fatto che non sia ancora ripresa la circolazione normale dei treni, mi accontenterò di andare ad Abbadia Lariana, Varenna, le cascate più corte d'Italia, il fiume più corte d'Italia, Fiummelatte, Aldo.